Un cordiale saluto, un buongiorno a tutti voi telespettatori carissimi di Fano TV. È un piacere ritrovarsi tutte le mattine in diretta alle 7.30 sul canale 17 per iniziare la giornata insieme e iniziarla con l'informazione locale, quella della provincia di Peso Urbino e i giornali che noi prendiamo tutte le mattine in esame con il nostro touchscreen sono il resto del Calino e il Correo Adriatico. Prima però andiamo a vedere il calendario, il calendario del giorno per vedere il santo di oggi. Oggi la chiesa ricorda San Pasquale Bailon e il sole è sorto alle 5.39 e tramotterà alle 20.29. Il tempo per questi giorni? Oggi mercoledì il tempo nella mattinata sarà discreto, vedete c'è il sole ovunque in tutta la regione Marche e continuerà a spendere anche nel pomeriggio. Nella giornata di domani, giovedì, secondo il sito di Trebbimeteo ci sarà ancora bel tempo sia al mattino che al pomeriggio, questa è la serata e la nottata. Poi venerdì c'è qualche peggioramento soprattutto nella sera nell'entroterra con aumento della nuvolosità in particolare nella provincia di Pesaro e Urbino. Il fine settimana, sabato 20, al mattino c'è il sole però il pomeriggio ecco le nuvole con dei temporali, dei temporali che faranno la comparsa soprattutto nelle zone interne della nostra regione. Andiamo a vedere domenica, andiamo a vedere domenica, eccola qua, la giornata si preannuncia nella mattinata soleggiata così come il pomeriggio anche se c'è qualche un po' di vento nel pomeriggio di domenica ma su questo saremo più precisi nei prossimi giorni. E allora cominciamo con la lettura del giornale e partiamo dal resto del carlino. In apertura la fotonotizia in primo piano è la comunicazione che Terna, Terna è la società che si occupa di fornire l'energia elettrica nelle nostre case, che ha quindi gli impianti e le infrastrutture. Terna incontrerà la Profilglas e nel riquadro vedete anche il proprietario di questa importante azienda fanese che lavora da alluminio, cioè Giancarlo Paci. La notizia qual è? È che Terna, secondo il carlino, dice sì alla Profilglas e quindi è pronta, si dice ad una soluzione per la fornitura di energia elettrica. L'azienda di Fano aspetta l'incontro chiarificatore, non sono ancora lì pronti con la bottiglia dello spumante, ma quasi. Ci sono ancora delle cose, c'è questo incontro a Roma, lo vedremo tra poco anche nelle pagine interne. Poi la dichiarazione di Macron presa al volo da quel volpone del sindaco di Pesaro Ricci, che non ne perde una. Comunque, fatto sta che è stato davvero tempestivo l'invito di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, che appena Macron, il neopresidente francese, ha detto a me piace Rossini, lui subito cosa ha fatto? Giustamente, ribadisco, lo ha invitato al ROF, Rossini Opera Festival. E chissà che il presidente francese non venga proprio a vedere e accetti l'invito. Poi c'è un retroscena incredibile nell'inchiesta sui Moldavi, dietro il ricatto all'avvocatessa c'è l'incarico di pestare, pensate, un collega avvocato, l'indagine ha affidato il PM Giovanni Narbone, adesso la donna è finita indagata e tutti i dettagli nelle pagine interne del resto del Carlino. A fondo pagina, sempre sulla prima, presto i DASPO per i venditori abusivi, un summit, un incontro in prefettura, il sindaco Ricci, primi nell'applicazione del decreto Minniti. Allora, torniamo sulla notizia della Profinglass, questa è la pagina di Fano, Terna accende le speranze, la soluzione c'è, dicono, ma Paci è cauto, l'incontro a Roma con il direttore generale, il sindaco Seri dice, il quadro è preoccupante. Il precedente, cioè, parla Guzzi, l'ex sindaco di Fano, che tra l'altro è stato operaio all'interno della Profinglass per diversi anni, e l'ex sindaco di Fano dice, è vero, fu proposto un potenziamento della linea, ma nessuno parlò di deficit. Poi vedremo tra poco anche quanti megawatt, di quanti megawatt ha bisogno l'azienda per accendere questo nuovo impianto che costa circa 20 milioni, che però in questo momento è lì fermo, non si può usare perché non basta la corrente elettrica. Allora, l'altra pagina del resto del Carlino. A tutta pagina si è spento Marco Cuzzupoli, il dottore amico degli anziani, fu primario di geriatria nel 1995 e si candidò a sindaco. Il suo successore, cioè il dottore Antonio Lacetra, dice di lui, grazie a Cuzzupoli un concetto obsoleto di assistenza fu smantellato. I funerali di Cuzzupoli si svolgeranno venerdì alle 14.40 partendo dall'obitorio dell'ospedale di Fano per la chiesa di San Giuseppe al Porto, dove sarà celebrata la funzione religiosa. Un altro lutto, questa volta a Urbania, ha colpito il paese dell'entroterra. Giovanni Cellini, insegnante di matematica e fratello di Paolo Cellini, presidente della Federazione Italiana della FIGC regionale, è morto a 76 anni, molto conosciuto ad Urbania per le sue doti di insegnante, ma anche come uomo di fede e di bontà, oltre che di ex calciatore. È un uomo che ha trasmesso agli studenti la passione per la sua materia, appunto per la matematica. È morto, il funerale è già stato fatto, si è già svolto, sabato pomeriggio. A Macerata Feiltre invece, questa sera alle ore 21, al teatro Angelo Battelli, a Macerata Feiltre dicevo ci sarà la proiezione del film La lista di Pasquale Rotondi e si tratta di una serata, ricordo, in onore del compianto onorevole Massimo Vannucci, che fu promotore e primo firmatario della legge 111 del 2009 che istituiva il premio Arca dell'arte, Premio Rotondi e Salvatori dell'arte. Andiamo e cambiamo giornale, adesso apriamo il Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico apre con una notizia che riguarda il sindaco di Fano che è indagato per la vicenda dell'aeroporto. L'ex presidente Santorelli, Gianluca Santorelli, ha presentato un esposto dove aveva segnalato che in una riunione informale con il Comune che si era svolta il 3 maggio avrebbe ricevuto in debito e pressioni per cambiare i dati di bilancio, ebbene, con questo esposto dove lui ha scritto tutte queste cose, chiaramente è stato convocato dalla finanza come persona informata di fatti, ha precisato che a quella riunione c'erano il sindaco, il capo di gabinetto e la segretaria generale e poi c'erano anche due dirigenti ma non ne ha ricordato i nomi. Per questo Seri, Celani e Renzi sono stati convocati per l'interrogatorio nella veste di indagati. Tutti i particolari li troverete sul giornale, sulla pagina di Fano nell'articolo di Lorenzo Furlani. Anche il Corriere si interessa di Terna e della Profilglas e Terna dice abbiamo la soluzione, c'è questa riunione giovedì 25 a Roma, l'azienda chiede un'ulteriore potenza e parliamo, ripeto, anzi lo dico, non ripeto, per la prima volta, che servono per allacciare 25 megawatt. La fornitura dovrebbe partire dalla cabina dell'Ocean tramite un cavo che dice l'azienda abbiamo contribuito a pagare noi per il 60%. Quello che noi chiediamo dunque è un aumento di potenza in questa cabina che tra l'altro servirebbe per venire incontro alle esigenze non solo nostre, ma di tutta la zona industriale di Bellocchi. Questa è la dichiarazione della Profilglas e quindi vedremo che cosa succederà giovedì prossimo. Poi, sempre sulle pagine di Fano, in fondo, sul Corriere, c'è la notizia di questi 54 fortunati bambini che giocano a calcio con l'associazione Carissimi, la quale l'associazione li ha portati tutti in una volta, con tecnici, dirigenti e anche giocatori in quello che viene definito, anche qui usando un termine legato alla chiesa, il santuario del calcio, cioè Coverciano. Il calcio azzurro, perché sapete che Coverciano è il luogo in cui si ritrova la nazionale di calcio, quindi in teoria la massima espressione del calcio italiano. E questi bambini, con tutte queste persone, sono andati appunto a respirare un po' e a sognare, perché no? E a sognare un po' a Coverciano. Nella pagina invece di Fossombrone, il Corriere, attenzione perché il Consiglio Comunale di Fossombrone ha approvato un nuovo regolamento per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza. Allora arrivano nuovi lettori di targa, ci sono già dieci telecamere in funzione a Fossombrone, alcune servono anche per il discorso dei rifiuti abbandonati, dei furbetti dei rifiuti, però insomma quello che riguarda il piano di potenziamento, che dice Bonci, il Sindaco non si ferma qui dal momento che abbiamo già programmato l'installazione di un nuovo impianto di lettori di targa lungo la Mondaviese, oltrepassato il Ponte Nuovo, in modo da controllare sia l'uscita che l'ingresso nel paese. Dalla Valle del Cesano invece un patto tra Frontone, quindi parliamo della montagna, del Capria e Pesaro e quindi di conseguenza il mare. Lo hanno firmato il Vice Sindaco di Pesaro Vimini e il Sindaco di Frontone Passetti. Lo hanno firmato in una cornice straordinaria dentro il castello ed è questo protocollo che promuove il turismo sportivo e la cultura ambientale. In gioco anche la valorizzazione del Castello della Porta come luogo di eventi attrattivi e naturalmente si può utilizzare anche per i convegni. A Pesaro invece arrivano sei agenti di polizia stagionali per vigilare sul traffico e sui decibel, quindi sulla musica che viene autorizzata per le manifestazioni e le feste di sera. Rinforzi per l'estate dunque la Polizia Municipale, delle noci dice 11 ne abbiamo già assunti a tempo indeterminato. A Senigallia invece c'è la guerra contro i chioschi abusivi, sono scattate le prime sanzioni, in spiaggia, multe sono fioccate da oltre 1000 euro per 6 strutture che sono già state tutte smantellate. E poi c'è la notizia del furto di 725 pacchetti di chewing gum di gomme da masticare, Vividen e Vigorsol per un valore di quasi 500 euro rubate all'Ipercop di Senigallia. L'ultima pagina è quella di Urbino che apre con la strada per Miniera che è un colabrodo ma così come queste qualcuno dirà beh ma solo questa ce ne sono tantissime in effetti un disastro dimenticato per CUT Liberi Tutti, lo dice Enrico Magnanelli che è consigliere appunto comunale del CUT che protesta, dice la frana peggiore ancora, grossi pericoli per chiunque ci passi sopra. Con questo noi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito al 338 49 68 250, come sempre potete inviare i vostri messaggi di testo, fotografie e video per segnalarci tutto ciò che accade attorno a voi e tutto ciò che secondo voi potrebbe essere una notizia da condividere con i telespettatori. Noi ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale. A voi tutti l'auguro di una buona giornata.